Buonasera a tutti dall'avvocato Maria Sabina Lembo del Foro di Potenza. Continuiamo a parlare di bullismo. Questa volta vorrei soffermarmi su quello che possono fare i genitori, come possono aiutare i loro figli. Devono essere a mio avviso consapevoli del fatto che come genitori sostengono i propri figli, li incoraggiano ad affrontare le difficoltà che hanno durante il percorso di crescita. La cosa più importante che fa ogni genitore è quello di interessarsi di come si comporta il proprio figlio in classe, a scuola, e capire anche se il comportamento del proprio figlio è diverso, è differente rispetto a quello che tiene a casa. Perché vi dico questo? Perché a volte capita che appunto un genitore venga a conoscenza del fatto di avere un figlio bullo e quindi in questo caso dovrà rivolgersi alla scuola, al dirigente scolastico, piuttosto che agli insegnanti allo scopo di intervenire. E deve anche sapere che ci sono dei professionisti che hanno delle competenze specifiche a cui ci si può rivolgere, poi ci sono ovviamente anche dei numeri da poter contattare. Ma sicuramente l'intervento dei genitori è fondamentale. Fondamentale perché serve proprio ad interrompere questo circolo vizioso della violenza che lascerà poi delle tracce indelebili sulla vittima. cerca appunto di combattere quelli che sono i comportamenti devianti, delinquenziali dei propri figli, cerca di diffondere una cultura della collaborazione, quelli che sono i valori del rispetto, della tolleranza verso la diversità, verso gli altri. E quindi i genitori devono, secondo me, prestare attenzione a tutta una serie di indicatori. Ad esempio valutare se il proprio figlio è spesso solo, non invita degli amici a casa, piuttosto che è triste o comunque manifesta dei disagi, inizia a perdere l'appetito, oppure a avere problemi di insonnia, a perdere interessi nelle attività scolastiche, extra scolastiche, quindi anche avere problemi di rendimento scolastico. Insomma, cercare di prestare attenzione a tutta una serie di comportamenti. E quindi, secondo me, il consiglio da dare ai genitori è quello di ascoltare i propri figli, cercare certo di dare fiducia ai propri figli, soprattutto quando si aprono, quando iniziano a raccontare degli episodi che per loro non sono piacevoli, ma in questo caso non bisognerà né minimizzare né enfatizzare, ma piuttosto prendere in considerazione quelle che sono le paure, i loro sentimenti, le loro emozioni. Bisogna far capire che chiedere aiuto è possibile, non è un segno di debolezza, ma è un modo per affrontare in maniera adeguata il problema. Quindi insieme ai propri figli si possono trovare le soluzioni possibili a quelle che sono le prepotenze altrui, alle violenze, quindi aiutarli, rassicurarli, appunto garantendo la propria presenza e di essere dalla loro parte. E poi, come ho detto già prima, rivolgersi sicuramente per un supporto professionale a delle persone competenti. Bisogna far capire sempre quelli che sono i valori dell'amicizia, delle regole, del rispetto della vita degli altri, l'importanza del dialogo anche nelle relazioni sociali. E visto che il bullismo si verifica solitamente a scuola, cercare di parlare anche con gli insegnanti dei propri figli, in entrambi i casi, sia che si tratti di figli bulli o di figli vittime, proprio per valutare insieme come poter agire al meglio, e quindi conoscere e praticare le strategie preventive e di contrasto con cui la scuola poi affronta i casi di bullismo. E nel caso in cui appunto il proprio figlio sia un bullo, occorre mai giustificare le condotte, e quindi non dire che è colpa di altri, ma cercare invece di responsabilizzare il proprio figlio, sempre però tenendo conto che debba avere dei punti di riferimento, quindi delle figure adulte che lo aiutano.